Recanati, candidati sindaco e liste civiche che li sostengono in movimento, buon attivismo e partecipazione per il voto di giugno? Concretezza chiedono i cittadini elettori, concretezza avranno, si sentono rispondere dai quartier generali di bravi Fiordomo e Peppa. Se le premesse sono queste avviciniamo il voto con buon ottimismo. Intanto opinioni in libertà. Francesco Fiordomo ha lasciato un grande ricordo sulla cittadinanza come persona capace e persona concreta. E quindi chiedere i voti sapendo che siamo nella coalizione dove portiamo come sindaco Francesco Fordomo è sicuramente un aiuto isperato. Da una civica ad un'altra civica. Si parla e si discute su centro storico, ospedale, periferie e su quanto possa essere di interesse per lo sviluppo della città. Un interesse sul quale si proiettano idee e programmi per un futuro che ci si augura vincente. Di fatto serve questo. Cioè mettere più risorse nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Dare un'attenzione principale ai servizi fondamentali che sono quelli sociali, quindi socioassistenziali e cercare quindi di distogliere alcune risorse laddove non sono prettamente necessarie. Quindi più attenzione alla pulizia, al decoro, alle strade, alle piccole manutenzioni, alle cose di tutti i giorni che i cittadini vogliono vedersi, vogliono vedere soddisfatte. Circa una ventina di liste civiche in campo per spingere avanti il proprio candidato. Amore per i canati e voglia di partecipare. Si danno e si ricevono sollecitazioni per far emergere bene idee e programmi da mettere poi in pratica con atti concreti. È opinione comune che questa consultazione elettorale sarà giocata più sul valore della persona che sul partito di appartenenza. Assolutamente sì, infatti questa è la motivazione principale della nostra scelta. Noi guardiamo le persone, le idee delle persone, i contributi che le persone possono portare alla causa comune. La causa comune è ovviamente quella di vivere recanati in maniera più piena, in maniera più positiva e far crescere di nuovo recanati. Cominciamo allora ad annusare aria di cabina elettorale. Andiamoci tutti a votare e non mortifichiamo questo importante appuntamento rimanendo a casa. Non sarebbe onesto verso se stessi e verso la stessa comunità nella quale viviamo la nostra quotidianità.